Ok ragazzi ancora non ci posso credere pochissimi minuti fa ma davvero pochissimi si parla di circa 5 o addirittura 2 non ho ancora controllato perchè sono in estasi E' stato annunciato un nuovissimo pokemon direct per domani alle ore 15 Questo nuovo pokemon direct durerà circa 7 minuti Finalmente scopriremo quale sarà la nuova coppia di titoli pokemon E magari scopriremo anche quelli che sono i pokemon iniziali e i pokemon leggendari anche se onestamente mi sembra un po' prestino Anche se mai dire mai perchè ricordo che nel direct di pokemon XY vennero appunto annunciati Chespin, Fennekin, Froki e anche Xernas e Diveltal Senza dunque aspettare ulteriore tempo Potrebbe essere dunque che a differenza di quanto abbiamo visto con pokemon sole e luna The pokemon company potrebbe dunque sganciarci subito la bomba Detto questo domani ore 14.30 ci troverete in live sul canale per appunto assistere all'annuncio assieme a voi Io non vedo letteralmente l'ora Finalmente scopriremo quale sarà il futuro della serie pokemon su nintendo switch E magari potrebbe scapparci l'annuncio anche di qualche spin off Chi lo sa anche se mi sembra difficile Detto questo allenatori miei lasciate un mi piace a questo video se anche voi non aspettavate altro che questo direct E ovviamente condividi l'annuncio di questo direct con i tuoi amici Qui da Diego ancora incredulo per oggi è tutto Se non avrei scommesso un euro nell'annuncio di questo direct Ciao allenatori Grazie a tutti